50 miglia più a nord, una missione cattolica segna l'ultimo avamposto della civiltà. Ben cinque missionari sono stati uccisi in questi ultimi anni, prima che il suono di una campana risvegliasse in queste antichissime valli l'istinto della fede. Qui, dopo centinaia di secoli trascorsi nel nulla, gli uomini scoprono per la prima volta di avere un dubbio, una domanda alla quale non sanno rispondere. Un'angoscia vaga e finora sconosciuta che non è fame, non è sete, non è dolore fisico e che tuttavia duole come una ferita. È l'angoscia che accompagna l'uomo dall'inizio alla fine del mondo, ma loro ancora non lo sanno. Soltanto ieri hanno scoperto il mondo e se stessi e subito oggi hanno bisogno di una fede che gli abbì alla speranza di essere migliori in un mondo migliore. Soltanto ieri Soltanto ieri